ringrazia piccola ma noi ci siamo laureati oggi un terzo di laurea è della mamma un terzo è del papà allora cambiamo i percentuali che dici a cazzo non la contiamo? no appunto scusa almeno 15% dietro alla gioca che ti hanno lasciato della famiglia la più bassa bravi bravi non è vero non ho capito riderti la nome per il ragù e le candele degli esami già ringraziata ne ringrazia tutti che l'attesi zia Lorenzo per le sue energie onde raga le onde che ho ricevuto io nessuno tutti i parenti mi stanno fatta anche se ormai frigo nato in mezzo cioè tu sei in mezzo a frigo nato io neanche la nat per le minestre nat dov'è la nat? nat parla val la nat nat per le minestre ogni volta che tornavo a casa di ciuma ieri è passata la nat zappilo zappi zappi hai anch'io dai Alice grazie anche Lisa eciğim speciali come è la Gina? qua lassù ciume ciao gli sfatemi scemmo oh Dio che tincianti però come Mary è in prossimità il baratro è lì lì solo quello poteva intendo Ica per tutti grazie Ezio per i gelati offerti grazie Ezio proprio grazie tipo 800 gelati offerti quindi c'è Ica in realtà ringrazio Ezio grazie Ezio Mary 2 anche se lei crede di essere Mary 1 di questa non sono d'accordo l'ho lasciato per questa volta Claudio che sopporta le tue bravo Claudio bravo Claudio per oggi per oggi solo per oggi tranquilla il dottor Sandro D'Adele per l'evidente colta ispirazione infatti su Canterson proprio una pacca proprio so tutto Sandro D'Adele però se avessi un bicchiere ti innalcerai in questo momento perché le manca il bicchiere? il culo e le sagre di Christian Frassinelli sì o no? eh beh per aver reso pesanti le giornate sì o no? sì ringraziamo anche la pinanza per questo viva la pinanza tutti i cittadini degli Stati Uniti per averci regalato un anno di pace nel momento del bisogno è Ryan la biologia che le ha impedito di moltiplicarsi per mitosi non l'ho ancora detto felice e feda per nessun motivo ma sembra brutto altrimenti bravi bravi e tolun? ah ecco c'è anche tolun si ringrazia si ringrazia di fare Mauro e tolun che salutiamo vai Mauro perché ecco avercene avercene di Mauro e tolun che servizio tolun no Mariato vorrei precisare che tutta questa rima l'ha messa giù da noi non mio Aldi poni fino a questa sorpresa eh non è tanto è un po' buono è un po' buono è un po' buono è un po' buono fino all'ultimo e vai grazie 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 il griso verde e il crudine il narcollico biondo che fa infartire il mondo rinversiamo tutti lì come cazzo si chiama i carnevali dico melico superiore dico melico superiore è un po' di boonese seguite che chiamo bevamo solo questo indovina cos'è cos'è bravo perli vediamo lo sci vai perli che poi una camicetta e io 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 ah ma hai fatto devi leggere i biglietti tu è della famiglia, leggi e ti ho scritto così bene la job alasio ed eccoci arrivati a questo incredibile traguardo che hai tagliato dopo tanta fatica e molti ostacoli qualche caduta alcune parecchie lacrime e tanti abbracci ma sempre con tanta costanza e determinazione palese che ha aiutato reghello dai la delma molla la lacrima siamo stra orgogliosi te palese che è della giovani ci stanto eri taggiatta giovani della mamma congratulazioni dottoressa Mary colà raga brava Mary come eravamo un po' indecisi sul regalo come vedi Mary come vedi eravamo un po' indecisi sul regalo ma di due a caso siamo certi ti piacerà? in famiglia tutto si condivide grande Mary tutto si condivide sotto l'idea raga posso immaginare oh 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 è tornata la fanta della zia è tornata la fanta della prenda da guidare fra cinque brava Mary non prima non so dov'è però lo scherzo è che devi andare in giro per santo Stefano e cercarla oggi non ho dato un cuore ti prego vai a cercarla e spero tu non ci entri comunque nella cinquecento brava Mary vedi così mi tengo la patente subito meglio che la guardi domani vai a cercarla si condivide tutto ma non conti Mary dacci che te la portiamo dai che vogliamo metterla no vado a cercarla no Mary d'accordo guarda lei ha la padella è morta no ciao a tutti brava Mary dacci che si fa guidare brava Mary d'accordo il cappello la messura il cappello Mary l'ultima volta che ho fatto così mi sono tagliata Dov'è Luca che mi ha portato all'ospedale? E' chi usa? oh ah 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 car for a life della serie è la prima e l'unica questo te l'hanno fatto a te per i tuoi 50 anni non andare dentro per l'albero fai solo un po' vaggi indietro senza prendermi l'acero che già uno è stato distrutto l'albero là davanti non lo vedo bene non lo vedo bene però anche a tuo noviziato si bravo pietro che l'hai lasciata in retro suona Mary va bene così la bruma suona Mary suona suona dottore, dottore del muso del cul dottore, dottore del muso del cul no Giulio è la, è in mezzo ti ringrazia piccola ma noi ci siamo laureati oggi mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace